Ed eccoci ai risultati del weekend calcistico appena concluso, partiamo dalla Serie D, la sesta giornata di andata. Caravaggio Virtus Bergamo 2-1, Darfo Boario Caronnese 0-1, Legnago Salus Ciserano 1-1, Manto Vacomo 2-1, Pontisola Villa Dalmè 1-2, Prosesto Olginatese 3-1, Rezzato Ambrosiana 2-1, Villa Franca Veronese Sondrio 0-1, Seregno Scanzorosciate 0-0. Il Sondrio si trova a 11 punti in classifica. Campionato di promozione, settima giornata di andata, Alda Brianza Davernerio, Brianza Cernus Comerate 1-1, Aurora Calcio Biassono 1-0, Barzago Speranza Grate 1-0, Dipo Vimercatese Concorezzese 1-2, Lissone Visnova Giussano 1-3, Luciano Manara Basiano Masate 1-0, Menaggio Casati Arcore 0-3, Viberonchese Colico Derviese 0-2. Da segnalare la Colico Derviese in terza posizione con 15 punti. Settima giornata di andata anche in prima categoria. Berbenno, Olimpic Morbegno 0-1, Besana Fortitudo, Grosio 2-0, Calolzio Corte, Arcadia Dolzago 1-1, Chiavennesa Albiattese 1-0, Cosio Valtellino, Olimpia Grenta 1-2, Costa Masnaga, Ars Rovagnate 3-0, Dubino, Missaglia Maresso 1-2, Giovanile Canzese Vedugio 0-1. In classifica 16 punti per la Chiavennese, 15 Arcadia Dolzago, 13 Olimpic Morbegno, Giovanile Canzese e Berbenno, 12 Cosio Valtellino, 11 Missaglia Maresso, 10 punti Vedugio, Olimpia Grenta e Costa Masnaga, 7 per Besana Fortitudo, 6 Grosio, 5 punti Calolzio Corte e Albiattese, 3 punti per Ars Rovagnate e Dubino. Infine, seconda e terza categoria, settima di andata, Albosaggia Ponchiera Livigno 4-1, Altolario Tiranese 2-1, Ardenno Buglio, Valmalenco 2-0, Penta Piateda Valchiavenna 1-1, Piantedo Atletico Cosio 4-3, Polisportiva Villa Pratacalcio 1-1, Sondolo Bormiese 1-5, Talamonese Sport Club Dongo 1-1, riposava il Delebio. In classifica 24 punti Albosaggia Ponchiera, 20 per Valchiavenna e Talamonese, 18 Ardenno Buglio, 17 Bormiese, 15 Sport Club Dongo e Tiranese, 14 Piantedo, 12 Altolario e Penta Piateda, 10 Delebio e Valmalenco, 9 Polisportiva Villa, 7 punti Livigno e Atletico Cosio, 6 punti Pratacalcio, in fondo Sondolo con 5 punti.